Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, ieri sera siamo andati a letto pensando che oggi sarebbe stato il mondiale di ciclismo a quell'orario assurdo che hanno posizionato dall'Australia, ma vabbè, ognuno di noi ha trovato il proprio modo di seguire questo mondiale, sveglia le 2, sveglia le 4, sveglia le 6, sveglia le 8, dritto, 4 termos di caffè, 5-6 sveglie piazzate ad orari tattici, rigorosamente senza 0,5 alla fine, Occhiai alla paperino, cuffietta e pronti carichissimi per seguire questa gara, ricchissimi protagonisti come Tadebo Gazzar, Mathieu Van Der Poel, Fout Van Aert, Rem Koevenepoel e poi niente, chiunque di noi si sia svegliato a qualsiasi ora, la prima cosa che ha scoperto di questa gara è che Mathieu Van Der Poel questa notte ha avuto una delle nottate peggiori a propria vita, Perché mentre cercava di dormire, andando a letto molto presto, ovviamente, concentrarsi al massimo in vista di questo mondiale è stato disturbato nella propria camera d'albergo, da un paio di ragazzini, ragazzine, ragazzin, tutto ciò che c'è in mezzo, non ho capito, non voglio dire tantissimo di questa storia, perché a quanto pare dopo domani ci sarà un processo nella celerissima Australia, che abbiamo ben conosciuto anche a inizio anno agli Australian Open, ma in realtà conoscevamo già da prima, E quindi non vorrei dire niente di falso, aspettiamo, insomma, le pronunciazioni, il prociueso, mi vorrei concentrare solo sul dato meramente sportivo, ad un atleta non dovrebbe assolutamente mai succedere di essere disturbato in questa maniera a visita di una gara così importante, che sia colpa dell'hotel, del paese, dell'organizzazione, della sua squadra, qualsiasi cosa non deve succedere, tutto ciò che succede da lì in poi è tutto dibattibile, ma il dato mi pare chiaro, sta cosa è assurda, Di conseguenza Matteo avrà dormito tipo 20 minuti, meno di coloro di noi che hanno deciso di uscire ieri sera e comunque guardare tutta la gara, e quindi ha partecipato per finta, si è ritirato dopo 30 km, sarà incazzato con l'universo, e ovviamente la conseguenza sportiva, quella che interessa a noi, è che abbiamo vissuto questa gara senza uno dei protagonisti principali, e anche a livello tattico ovviamente è cambiato tantissimo. Il belgio aveva le porte spalancate a questo punto, molto più di prima, le possibilità dell'Olanda di fare doppietta dopo l'impresa di Ammik van Floyten erano ridottissime, e mentre in mezzo ad una festa di palloncini e sorrisi, noi perdevamo uno dei divertimenti più grossi della nostra vita, proprio in quel momento all'attacco, questi sì, sono gli uomini che vogliamo vedere il Mondiale, Mika Van Der Poel, lui vada pure alla stazione di polizia, vogliamo vedere Rinsko Rice del Vaticano, vogliamo vedere Antoine Berlin, vogliamo vedere DJ Bonello, che non lo so, ci avrà suonato qualcosa, di molto tamarro credo, essendo in Australia, e vabbè, rimando ogni ulteriore commento a questa vicenda, ai giorni prossimi, perché poi domani c'è il Pietro Ottolanti Cycling Podcast, classico teatro per discussioni altere, di contorno del genere, e poi penso proprio che martedì, dopo che ci sarà il processo, cercherò di fare una live o un video sull'argomento specifico, perché è bello ampio, lo sapete poi che mi piace trarre considerazioni etiche e quant'altro, dalle cose, discuterne, farmi dubbi, non è che posso trattare sta roba in due minuti, insomma vabbè, questo Mondiale è stato combattuto a subito, già nel primo passaggio a Mount Pleasant, si è mosso un qual certo Tadepo Gachar, ci sono stati tentativi di smuovere la corsa fin da subito, ma poi dopo c'è stata anche una lunghissima fase, abbastanza noiosa in realtà, non l'unica, all'interno di mondiali che certamente non sono stati fra i più spettacolari che ricordiamo, unito all'orario, alla regia, al fatto che al traguardo delle corse ci fossero molte meno persone di quelle che c'erano nella nostra chat stamattina alle 5 e mezza a commentare la gara, quello in questa fake Sydney è stato un mondiale un po' così, però entriamo insieme in questo rewind, perché qua siamo in zona leggenda, a 77 dalla fine Samuele Battistella ha tentato la fuga nella fuga, questo gruppo davanti non aveva veramente qualcuno di pericoloso, c'erano già i Hindley, i Ben O'Connor, non sono veramente pericolosi per una corsa del genere, andate a vedere dove sono arrivati alla fine, era scaturito proprio dopo il casino iniziale generato da Poggi e qua Battistella sta cercando di creare un vantaggio alla propria squadra, nel frattempo dietro Francia e Belgio sono in cima al gruppo e anche se non sembra stanno cercando di strappare, e mentre la regia ci fa vedere gente che si stacca di Panama, Malesia, Kiribati, non lo so, in questo momento 76 dalla fine si sta decidendo la gara, l'attacco lo propone Quentin Paché con la classica Francia squinternata di Thomas Vauclair, che ricordiamo dall'anno scorso, lo sappiamo sono dei pazzi, caratterizzano ognuna di queste corse mondiali, un po' come ha fatto anche spesso in realtà l'Italia, Paché viene seguito da un po' di luogotenenti, fra cui anche il nostro Lorenzo Rota, ma là dietro c'è un piccoletto che è molto ben riconoscibile, perché ha il casco rosso, perché ha il casco rosso, perché ha vinto la Vuelta in Spagna, perché ha vinto la Vuelta in Spagna, perché Remco e Venepol, Vaucblin, dietro i capitani si marcano, nessuno prova a saltare sulla ruota di Remco fra i favoriti della corsa, perché nel plotone c'è anche Fout van Aert, e praticamente tutte, e dico tutte le nazionali, oggi hanno impostato la corsa su Fout van Aert, ma e quanti ci può già tutta lettura tattica della gara, diciamo? Contro questo Belgio, in realtà, per curarti di Fout van Aert, la prima cosa che dovresti fare è non lasciare andare via Remco e Venepol, perché permette a Fout van Aert di speculare per il resto della gara e tenersi per i momenti buoni. Ma ovviamente il Vutone non è uno spauracchio per caso, e quindi, alla fine, si sta staccando in questo momento un gruppo di 20 elementi, con tre belgi, tre francesi, Paché, Bardet e Florian Seneschal, e due italiani, Rota e Conci. In un attimo c'è il gap, in questo momento la fuga è 1,5 al gruppo, e a tirare questo gruppo, dove però, perdonatemi, scusate ragazzi, qua dentro c'è Renco e Venepol, che quest'anno ha vinto la Liegi-Bastogliegi, la classica San Sebastian, più o meno le classiche più simili a questa che esistano, ma forse sono un po' più dure, ma lui ha una lunga storia di vittorie in corse anche un po' più facili, appunto, come tutte le varie corse belghe che ho raccolto nel mio video dell'anno scorso sui suoi attacchi Long Range, e però qua, in questo gruppo, decidono tutti di collaborare con l'uomo che è top 4 nella classifica UCI e quest'anno ha vinto tutte queste cose. Ormai sono mesi che dico, ma evidentemente la sottovalutazione che ho rilevato durante questa stagione in tanta dell'opinione pubblica evidentemente esiste anche le ambiraglie, e quindi Florian Seneschal per la Francia di Bachet e forse in realtà per la quick step di Lefebvre si mette di gran lena a tirare questo gruppo. Ovviamente il Belgio è felice perché qua, oltre a Remco, ci sono anche Peter Seri e Kenten Hermann. È una situazione perfetta e in questo momento, con lo scambio e sguardi, nasce l'alleanza Francia-Belgio che però, secondo me, è clamorosamente sbilanzata. La Francia ha tutti e tre i suoi più forti dietro, alla Philippe Madoua e Confrois, mentre il Belgio ha uno dei suoi due più forti, più o meno alla pari, davanti. Eh sì, avete già capito dove stiamo arrivando. Questo qui è il Tempio Buddista a Wollongong, dove il buon Fout Fanart ha già prenotato una settimana di pernottamento la prossima. A quattro giri dalla fine, Battistella continuava a provare la fuga nella fuga e stavolta ci riusciva. E su Mont Pleasant, con il ritmo del Belgio, il gruppo stava rientrando sui fuggitivi. E qua va sicuramente fatto un plauso al Samuelone, perché è stato l'ultimo superstite di una fuga per niente scarsa e perché ha dimostrato ancora una volta, come è già fatto varie volte quest'anno, che come attaccante da corse di un giorno e tappette varie, varie veramente gli alti ranghi e il ciclismo. Sulla cima dello strappetto sembravano tutti tranquilli, quando all'improvviso Remco è partito così come un'ombra, con la sua classica mossa di partire subito dopo uno scollinamento, quando arriva l'acido lattico agli altri. Ha provato a proseguire nonostante fosse braccato, perché? Perché è proprio ciò che aveva detto Tadej Pogacar prima di questa gara. È quasi impossibile staccare i passisti molto forti su questo circuito. Per farlo bisogna sfiancarli, attaccare spesso, tenere il ritmo alto, non farli rifiatare, tutto ciò che ha fatto Remco oggi, tutto ciò che non abbiamo visto invece dal buon Poggi, che evidentemente non aveva una gran gamba. Ha provato a rilanciare un molto tonico Alexei Luzenko, mentre qui a 55 alla fine il gap è salito a 1,40. E chi è che sta tirando dietro? Non so, forse l'Italia che ha Betty Hall, Trentin, o la Francia che oltre a quelli già citati prima ha Christophe Laporte, l'Australia di Michael Matthews, magari, la Slovenia, la Slovacchia di Sagan, non so se c'era qualcuno in gruppo la Slovacchia. E invece no, quando hanno girato sul gruppo stava tirando, io vi giuro che non ho capito di che nazionale è questa divisa. Cos'è la Repubblica Ceca, la Slovacchia? Non so, ditemelo voi nei commenti, ma comunque non è una delle nazionali che ci aspettavamo. Poco dopo tirava la Germania per... Eh, ok, è il momento di affrontare l'elefante nella stanza. Ma lo farò una volta tanto attraverso parole non mie, perché questa serie di tweet della pagina Nairo in Green è sostanzialmente tutto questo mondiale. Il buon Nairino si immagina cosa sta pensando ogni ammiraglia. Questa è la Francia che dice, no dai, sciallissima, abbiamo Sivakov in fuga, non esiste che Remco lo droppi. Che vabbè, Sivakov non era in quella fuga, Nairino, un attimino ripigliati. Però ci siamo capiti. Il Regno Unito dice, c'è Bentalet, non esiste che tiro dietro. La Slovenia ci pensa un po' e fa, guarda, io ti aiuterei anche a seguire per Taddei, però c'è Jan Primozic e ci piacciono veramente tanto le sue chance contro Remco. L'Australia, l'Australia con Michael Matthews che è il giorno prima della gara, dice, mi sento il grandissimo favorito di questa gara, anche se non ho mai vinto una fava. Le dichiarazioni di cui non ti penti. Quindi si dicono, Michael è un favoritissimo e sarebbe fantastico per lui vincere qui a casa nostra, però, cioè, bisogna considerare che c'è già i Hindley in quel gruppo, cioè ha vinto il giro, capì? E infine ha dato una bottarella anche al nostro Danielone Bennati dicendo, guarda, sì, Bettiol sembra avere una buona gamba, sembra forte, però non so se avete considerato che Lorenzo Rota è arrivato secondo al giro della Toscana. Sono tutti i modi per dire, in maniera simpatica ovviamente, ma centrata secondo me, che uno può avere in mente tutti i tatticismi che vuole ed è anche giusto ovviamente. Però, quando c'è gente del calibro di Remco vanno stracciati sti piani ed è il motivo per il quale oggi di analisi tattica ancora una volta per colpa di sti fenomeni ne farò pochissima. Perché la realtà è che Remco è stato pesantemente sottovalutato, doveva essere considerato un netto favorito al pari degli altri 2-3. Una volta piazzato Remco avanti per il bel giudietro era troppo facile seguire le ruote anche su attacchi come quello che c'è stato proprio in questo passaggio sul Mont Pleasant che ha coinvolto Valentin Maduata, De Pogacar, Alberto Bettiol, Biniam Ghirmai, Giuliana Lafilippe, che però non ha portato a nessuna parte, anzi, poco dopo il vantaggio era salito a due minuti e dietro a tirare chi è che c'era? Il povero Florian Seneschal di nuovo che prima ha tirato avanti per i compagni in fuga ha dato una grossissima mano ai belgi e adesso la Franza si è accorta che in realtà davanti di Chance ne ha pochissime il povero Floriano. Deve smazzarsi veramente un lavoro che speso sia stato ben ricompensato oggi. Davanti intanto Remco si era prodigato per inseguire Luzenko perché sa che è pericoloso e poco dopo sul Mount Pleasant in un momento totalmente perso dalla regia la Alan Tonetti sono riusciti a farcela anche col maschile dopo il femminile. Remco e Venepo a 35.0 km alla fine stava andando a compiere la mossa decisiva di questo mondiale mentre dietro tirava la Germania Seneschal ci si guardava no ma io c'ho i numeri no ma io c'ho quello ma questo è Remco quante volte ve lo devo dire quando parte Remco non lo prendi ed ecco le teste girate nel gruppo dietro che certificano che Remco e Venepo le Alexei Luzenko se ne stanno andando per sempre perché non li rivedi più trovano ovviamente subito a cordo i due maxi motoroni questo è un bello screenshot se volete farci un poster in camera vi tolgo anche il logo va Alexei aiutato sapeva che riuscendo a stare abbastanza sulla ruota di Remco da prendere un vantaggio sufficiente da mantenerlo fino alla fine sugli inseguitori dietro avrebbe vinto un argento automatico perché è come prendere un pulmino o una moto col sidecar e tutti gli altri sono in bicicletta sempre però dopo un paio di chilometri a ruota come abbiamo visto tante volte in questi anni continuo a rimandarvi al video degli attacchi long range perché lì succede di continuo Alexei Luzenko tira fuori delle facce di pura sofferenza che sarebbero potute essere immortalate dai grandi scultori del rinascimento e poco dopo sul penultimo Mount Pleasant in un momento che non so come nuovamente la regia è riuscita più o meno a perdersi Alexei Luzenko non ce l'ha più fatta e Remco e Venepol con alla sua sinistra un gruppetto esente che si inchinava letteralmente a lui se n'è andato via 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 è il miglior passista del mondo sì l'ho detto è il miglior passista del mondo quantomeno per quanto riguarda il 2022 penso sia abbastanza incontrovertibile e quando lo rivedi dopo pochi secondi ha 37 secondi sul resto del mondo due minuti e mezzo sul gruppo addirittura e queste splendide pose plastiche di colui che fino a pochi anni fa era un calciatore signori che a me come cosa non sta neanche troppo simpatica però che glielo vuoi dì sta producendo un vattaggio tale che basterebbe ad illuminare per intero la stazione di polizia dove è rinchiuso Matteo Van Der Poel no aspetta ma perché secondo la mia cronologia l'utente Faut Fanart è entrato nel mio computer e mi ha modificato lo speech che peraltro manco mai scrivo oddio cosa sta succedendo finito Mount Pleasant Remco si è girato e ha visto il vuoto assoluto dietro i lui 49 secondi su tutti ricordiamo che non sa andare in discesa ma in realtà da qui in poi è stata mera accademia la corsa è finita lì come abbiamo visto magari fare da Poggi alle strade bianche o da Remco alla Liegi questi fenomenacci ti ammazzano le corse a tanti chilometri alla fine e da lì in poi stai lì a guardarli come quando guardi un tramonto pazzesco clueless così con la faccia a punto interrogativo mentre dietro come scusa Fout Van Aert attaccava sullo stesso Mount Pleasant sul quale Remco si è andato via il penultimo dirà successivamente che era una tattica studiata che visto che non ci sono radioline in corsa tu non puoi sapere cosa sta succedendo avanti e quindi l'idea era Remco sta davanti cerca di far vantaggio più possibile cerca di andarsene da solo noi dietro non lo sappiamo e nel frattempo a due giri alla fine attacchiamo col vuttone e se Remco non sta andando bene ci ritroviamo magicamente con due carte fra quelli davanti altrimenti comunque Remco se ne va e sti cazzi lì per lì è sembrata una mossa abbastanza pagliaccesca del vuttone però devo dire che dopo la spiegazione considerato appunto il fattore radioline penso ci possa anche stare a un ulteriore modo per prendere la gara in mano invece che lasciar fare agli altri i più brillanti a seguirlo sono stati ancora una volta un ottimo Alberto Bettiol che qui veramente ci ha lasciato un rimpianto di non aver provato a seguire il fugone quello bello iniziale e pochi altri c'era il Taddeo Maduala Philippe che però non erano brillanti come il vuttone Bettiol secondo me nel frattempo Remco poco più di un chilometro alla fine ha tirato fuori le smorfie a cui ci ha abituato in questa sua ancora breve carriera nella quale però ha già fatto tutto quella di arrivare da solo in mezzo a due ore di folla è una delle sue abitudini preferite come per noi può essere magari quella particolare merendina che ci piace la mattina e ci svolta la giornata eh lo so ragazzi noi siamo persone semplici lui è Remco eh che però quell'incredulità verso la vita ce l'ha anche lui ve lo assicuro e dopo un'annata del genere non mi interessa più neanche se fa l'arrogante ora puoi farlo ti sei guadagnato i gradi di arrogante complimenti non ti dirò più nulla per me puoi calpestarmi anche guarda dietro a solite perle di braccino cortismo sulle quali non voglio soffermarmi troppo ma entriamo nell'ultimo chilometro con Lorenzo Rota che conduce questo gruppetto di quattro che si era formato dietro Remco e che poi viene elasticato da Pascal Enkorn perché stavamo facendo tipo i sette all'ora e poi è stato ripreso Enkorn è arrivato a dietro Tratnik e li ha elasticati anche lui praticamente questo finale è stato un flipper e però nel frattempo non si erano accorti o forse si erano accorti e sono stati molto ignavi lo stesso che esattamente dietro loro era arrivato il gruppo si erano fumati tutto il vantaggio gli ultimi chilometri il gruppo tirato dalla Francia stava portando alla volata il buon Cristoforo Rapport che infatti coglierà un fantastico argento a mio avviso dopo due ore consecutivi la Francia si piglia pure l'argento nell'anno in cui alla Philippe ha avuto un infortunio un mese prima nel mondiale sicuramente non risultato a buttare terzo il favoritissimissimo Michael Matthews e quarto il vuttone che però smette di pedale alla fine butta sostanzialmente una possibile medaglia forse perché lui dice che è ma le radioline non sapevamo perché posto stavamo sprintando quindi chi se ne frega che però vuttone no cioè sinceramente per quanto mi riguarda il punto è proprio che se non hai le radioline in qualsiasi gruppetto tu sia tu devi sprintare perché non lo sai potresti anche vincere magari Remco si è ritirato nel frattempo no cioè pensate si metti che Remco si è ritirato e questa la volata per la vittoria e vuttone la prende in cazzeggio così vabbè detto ciò ovviamente per il belgio è stata una grandissima vittoria ma io personalmente penso sempre che quando uno mi tira fuori la scusa non c'avevo voglia di far sta volata è semplicemente perché a metà volata si accorge che avrebbe preso gli schiaffi dagli altri e allora fa la mossettina il mondiale rimane in casa a quickstep col Giuliano che passa la maglia a Remchino e il Patrizio Lefevere a casa coi popcorn e i suoi sette telefoni dai quali ho organizzato tutto questo mondiale come sempre bravo Patrizio a vedere la scenetta c'era anche Zack della roca ah ma qua dietro nascosti insieme a Hermans angolino ciclocrossisti c'è il vuttone bella vuttone mamma mia Remco ma 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 perché hai vinto ma sei pazzo cioè io adesso non sarò mai più capitano del belgio cioè sono faute fan art sono un top del mondo e sono riuscito del giro di due anni a perdere totalmente i gradi di capitano adesso gli spacco la fa oh io 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 vuttone anche meno però eh ah ma ci sono le telecamere grande Remco grandissimo sì sì quanto sono felice quanto siamo amici siamo più amici della Voss e la Van Vloyten asterisco risate ricircostanza asterisco e niente ragazzi stamattina verso le nove alla fine di questa specie di sogno lucido che abbiamo avuto tutti insieme nel quale si correva in un continente assurdo non c'era Van Der Poel sono successe cose strane alla fine ci ritroviamo con un Remchino in maglia campione del mondo a 22 anni solo altri tre corridori nella storia sono riusciti a vincere almeno un Grand Tour almeno una monumento e il mondiale nello stesso anno sedetevi prima che ve li dica sono Alfredo Binda Bernard Hinault ed Eddie Merckx Remco ha vinto questo mondiale in solitaria con un distacco oltre i due minuti che gli vale il terzo posto dell'epoca moderna post-guerre dietro all'inarrivabile Maxi Bidone costruito da una squadra imbattibile d'italiana che è quello di Adorni e è un altro uomo che aveva polmoni aerodinamicità e potenza totalmente fuori al comune Fausto Coppi non vorrei dire ma questi sono da sempre i nomi che più o meno vanno associati a Remco ogni volta che fa qualcosa in questo caso è stato proprio un record quantitativo e qualitativo dopo questa stagione obiettivamente c'erano pochissime persone che si meritavano questa maglia come lui e continuo a sostenere che si sia pesantemente inchaddito è diventato un attore di Hollywood praticamente va che portamento avremo tutto l'inverno per valutare insieme questa stagione pazzesca del buon Remchino fatemi sapere qua sotto cosa pensate delle strategie di questa gara hanno fatto bene le altre squadre a speculare su Remco e continuare a marcare Van Aert chi è che doveva provare a saltare sulla ruota i Remco però fra quelli che sapevano magari di non essere marcati avrebbero effettivamente potuto fare qualcos'altro le altre nazionali per evitare una vittoria del Belgio fatemi sapere qua sotto questo è stato l'ultimo digestivo della stagione 2022 e devo un enorme ringraziamento a Do It non so quante volte ho dato della bestia rara a Remco quest'anno magari a una certa soffende pure casca a pennello questa vittoria del nostro amato Evenepul che non lo chiamo mai così per digerire questo mondiale francamente un po' troppo australiano per i miei gusti la stagione comunque non è finita qua anzi sabato prossimo è una delle mie giornate preferite l'anno è il giorno del giro dell'Emilia come sempre sarò presente sotto i portici per godermi la gara e come l'anno scorso se qualcuno ha voglia di venire a vedere questo splendido San Luca insieme a me scrivetemi ci guarderemo a gara tutti insieme e dopo mi piacerebbe andare a fare una birra con voi cercheremo di organizzare qualcosa di simpatico ed eventualmente per chi c'è andremo anche a cena insieme fatemi sapere entro martedì poi continuerò a parlarne anche nei miei altri social se potreste essere disponibili o meno così prenotiamo un bel posticiuino sì quest'anno avrei voluto fare una cosa più in grande ma le condizioni e le contingenze non l'hanno permesso però sarò veramente felice di farmi offrire e offrire un bel po' di birre a tutti noi questo era il mio racconto del mondiale di Wollongong noi ci vediamo ai prossimi video ciao